Allora, siamo riusciti a trovare il post scriptum a cui pensavamo prima Abbiamo trovato la signora delle pietre che ci è piaciuta molto Accidenti, era brava, ci ha imbroccato sempre Sì, anche con me Abbiamo tirato fuori tutte e due, abbiamo tirato fuori delle pietre tutte e due, ci ha letto il presente se non il futuro E il passato E il passato in qualche maniera Per cui andatela a vedere anche lei con tutte le altre attrazioni a cui abbiamo assistito Grazie ancora per la visione e al prossimo giro Ciao